Siamo al volley, domani seconda giornata dei playoff challenge per Verona Volley che prova a dare continuità alla vittoria con Taranto in trasferta sul campo di Monza. Così Dario Simoni, la vittoria con Taranto all'esordio in casa in questi playoff, quinto posto per la conquista di un posto nella prossima Cev Challenge Cup. Che partita è stata e nonostante anche delle importanti assenze la spada se l'è cavata bene? Sì, mancavano giocatori importanti ma la squadra come al solito ha risposto bene. È stata una partita che è risultata comunque difficile all'inizio perché ci mancava il ritmo partita, non giocavamo da un mese e ci mancava proprio il campo. Sono stati bravi ragazzi ad avere pazienza, portare a casa il primo set e poi il resto è stato davvero una partita un po' più semplice. La prossima partita sarà in trasferta con Monza prima di giocare e quella dopo che sarà in casa con Milano. Ma parlando appunto di Monza, qual è l'aspetto a cui prestare particolare attenzione per portare a casa questa partita contro una squadra che comunque ha appena vinto anche un trofeo europeo? Dovremmo sicuramente cercare di limitare la loro battuta. Loro sono estremamente pericolosi, hanno tre battitori molto importanti che sono Grozer, Davieschiva e Zavoro Nocche. Sono i due schiacciatori di posto 4 più l'opposto. Se noi riusciremo a contenere la loro battuta e a fare cambio palla sulla loro battuta credo che ci saranno ottime possibilità per vincere la partita. Domenica sera invece in campo la Tezenis, la GSM Forum per la terza... Grazie a tutti.